Ha preso il via il 29 novembre con l'accensione dell'albero in piazza 20 Settembre e l'apertura del tradizionale mercatino il Natale in città 2014. Musica, teatro, cultura, laboratori per bambini e famiglie, sport e solidarietà accompagneranno i pordenonesi e i loro ospiti fino al 13 gennaio per vivere assieme gli aspetti più belli delle festività natalizie. L'assessore comunale alla cultura Claudio Cattaruzza. Sarà un weekend ricco di diverse iniziative, quello che andiamo a vivere a Pordenone, iniziative che si svolgono nell'ambito di Natale in città. Inizieremo con l'inaugurazione dei preseppi il 6 di dicembre e queste durranno tre giorni, ci sono un concorso che ha coinvolto i ragazzi delle scuole. Poi ci sarà l'inaugurazione sempre sabato 6 dicembre al San Francesco alle 18.30, l'inaugurazione dell'artista udinese Giordano Floreantici con la mostra Guardatemi in faccia. Poi ci sarà lo spettacolo di Pintus, uno spettacolo al palasporto, uno spettacolo comico, di uno dei comici più in voga diciamo nel momento, quindi un'occasione anche per stare insieme e divertirsi, passare una serata divertente. Il giorno 7, la domenica 7 di dicembre, ci sarà il mercatino solidale, cioè l'altro Natale, destinato alla presentazione delle attività delle associazioni Onlus, quelle a scopo benefico, poi ci sarà il domenica 7 di dicembre in sala Pizzinato, presso la Galleria Parco Galvani, il concerto della New Orchestra con un importante solisti. Ed infine l'inaugurazione dei presepi sotto la loggia che ormai è un appuntamento tradizionale che si svolgerà diciamo anche quest'anno e che darà un tocco di calore al nostro Natale. Per ulteriori informazioni visitate il sito comune.pordenone.it slash Natale